Maxi operazione antidroga al porto di Gioia Tauro, sequestrate 3 tonnellate di cocaina. Lorenzo Bertolucci. Banane e cocaina direttamente dal Sud America. I Narcos sanno come nascondere la droga, ma il carico non sfugge agli scanner della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane. Più di 2000 kg, qualità purissima, scalo al porto di Gioia Tauro prima di viaggiare per i mercati di tutta Europa. Il maxi sequestro, l'ennesimo in quello che tutti chiamano il porto dell'Andrangheta, nel corso dei controlli coordinati dalla Procura della Repubblica di Palmi. La cocaina, nascosta in tre container di frutta, arachidi e pepe, e in mezzo alle banane c'è anche quella che viene scovata durante gli stessi controlli su un camion in uscita dal porto. 800 kg di droga sistemati su un tir che trasportava forni elettrici, l'autista finisce in manette. Tre tonnellate di polvere bianca in tutto, un affare per i trafficanti da un miliardo di euro.